Per tutti quelli che mi hanno chiesto Ian che moto hai? Eccola qua ragazzi, un X-Sighting 250, ma sto scooter è rimasto fermo 4 anni, è tipo sporchissimo perché vabbè, è rimasto fermo 4 anni, adesso l'ho appena portato al meccanico, 400 euro per fare tutto quello di cui ho bisogno per tornare in moto E adesso andiamo a inserire la chiavetta e vi faccio sentire come canta il motore, tra l'altro ancora qualche piccolo problema perché, perché speriamo, devo fare un attimo che devo far così Eccolo qua, e adesso in moto, purtroppo io adesso devo fare ancora l'assicurazione che anche quella è una sassata, mi costa 350 euro, notare la ruota che si muove da sola Io, boh, pensavo fosse un difetto, invece il meccanico mi ha detto che sarà il minimo che tiene un po' alto Invece io pensavo fosse proprio un difetto Vedete, sentite che un po' di fatica ancora la fa perché, essendo vecchio, non tiene tantissimo il minimo Infatti devo continuamente fare un attimo così E lasciarlo andare C'è ancora un po' di problemini, però questo bestione mi porterà in Sardegna quest'estate